E' arrivata, è arrivata, cari amici di convento.it, è qui con noi la sposa Ciao a tutti! Ciao! Salutiamo la sposa! Benvenuta, benvenuta! Mamma mia, andiamo a conoscerla, vieni qui, vieni qui con noi Da dove arrivi? Arzignano Provincia di? Vicenza Eh, preparatissima E ti sposi con? Alberto! Roberto! No, Alberto! Alberto! Era l'altro quello! Ci siamo confusi! Dopo quanto? Sei anni! E non sapelli, e non sapelli di aver fatto sei anni, eh? No! Alla fine sei riuscito a farlo mettere in ginocchio, vero? Sì, sì! Sì, sì, dalla casa te lo stanno suggerendo perché lei ha l'auricolare Allora, quando vi sposate? 15 ottobre Ma scaccia anche il pulsante, dai, scaccia anche il pulsante Lei sa tutte! E allora, e dove? Dove? A Tignano, Castello 15 ottobre a Pugliano del Iscato, ci siamo! Vi aspetto tutti! Siete tutti invitati ragazzi! Vi sto aspettando! 15 ottobre Non mancate! Ciao a tutti! Divertiamoci! È incredibile questa sposa, è incredibile! Ciao! No! 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 Grazie per la visione!